Nel fine settimana la presenza di un anticiclone sul centro-nord Europa e di una depressione sul sud Italia farà affluire correnti da est secche sulla regione, per cui avremo sia sabato che domenica cielo in genere sereno su tutta la regione, salvo qualche nebbia o nube bassa al mattino nel Tarvisiano. Per il resto soffierà bora moderata su gran parte della regione, forte invece sulla costa dove le raffiche a Trieste sia sabato che domenica dovrebbero attestarsi sui 100 km all'ora. Per quanto riguarda le temperature massime intorno ai 20-21 gradi in pianura, 18 lungo la costa. Domenica le temperature scenderanno di un paio di gradi per quanto riguarda pianura e costa. Di notte ovviamente temperature prossime allo zero nelle vallate alpine. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana situazione di bel tempo con attenuazione del vento per cui sia lunedì che martedì avremo cielo sereno su tutta la regione, aria secca, buona escursione termica con temperature minime intorno agli zero gradi per quanto riguarda la pianura. Dall'osservatorio a un metro regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.